I nonni faranno la differenza. È uno dei criteri che potrebbero entrare a far parte del regolamento per stilare la graduatoria di ingresso dei bambini negli asili del comune di Arezzo. Se ne parlerà giovedì prossimo in consiglio comunale. Il regolamento per l'accesso ai servizi per l'infanzia è in fase di revisione. La proposta costruita dall'assessorato guidato da Lucia Tanti è già passata in commissione nei giorni scorsi. Sotto la lente i criteri finora in vigore per l'accesso ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali e quindi per costruire poi la graduatoria dei bambini e delle famiglie che ne faranno richiesta. Una lista che potrebbe essere incrementata con voci del tutto nuove tra queste quella che balza più agli occhi è appunto quella dei nonni ovvero se avere un nonno o più a disposizione farà appunto la differenza e soprattutto in che modo di fatto in base all'età la loro condizione lavorativa e altri criteri verrebbero appunto considerati come aiuto alle famiglie. Salirebbero poi da due a quattro anche le categorie sul tipo di lavoro dei genitori. Se il primo discrimine era il monteore adesso diventerebbero invece sette punti per il lavoro dipendente full time e sei per il lavoro dipendente part time. Insomma un regolamento che potrebbe introdurre tante novità alcune di esse magari non troppo gradite dalle famiglie.